Alessandro da Milano appunto. Stavamo dicendo non sanno quello che fanno. Beh, io penso che sappiano perfettamente quello che fanno. Abbiamo Mario Draghi alla presidenza del Consiglio. Torniamo indietro di qualche anno. Draghi in seduta comune, Commissione Bilancio, Camera e Senato, espressamente quando era governatore della Banca Centrale Europea, ci è venuto a dire che le piccole e medie imprese italiane, quelle di cui siamo tutti d'accordo siano il motore produttivo del Paese, devono essere chiuse perché non sono sufficientemente produttive. Quindi l'obiettivo Draghi di andare a distruggere la piccola e medie impresa l'aveva già dichiarato da uomo del potere finanziario qual è. Io di Draghi ricordo una definizione che mi è piaciuta molto ed è di un Presidente della Repubblica, di un ex Presidente della Repubblica, che lo definì un vile, il vile affarista, il vile liquidatore dell'industria pubblica italiana, colui che salì sul panfilo Britannia a concordare dal Direttore del Ministero del Tesoro cosa svendere del patrimonio pubblico italiano, che era ciò che ci aveva fatto grande dopo la Seconda Guerra Mondiale. Draghi poi ha proseguito in questa attività e Cossiga lo ricordava anche come colui che qualora fosse diventato Presidente del Consiglio avrebbe completato l'opera. È questo che Draghi sta facendo. Quindi sono d'accordissimo con te su tutta la tua analisi, tranne sul fatto che sanno perfettamente cosa stanno facendo. E l'obiettivo del Governo è dare il colpo di grazia a questo Paese. E considerate il PNRR, il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, che viene dipinto dal mainstream come una pioggia di soldi dall'Europa, è la definitiva ipoteca sulla sovranità nazionale del nostro Paese. Significa accettare una stagione di gravissima austerità e di svendita di tutto ciò che resta del nostro patrimonio pubblico. Esattamente come aveva detto il Presidente della Repubblica Cossiga. Abbiamo già la patrimoniale sulla casa, sugli immobili, già dichiarata. Non mi vengono a dire che cambiano per lasciare tutto invariato, si cambia per aumentare il gettito, per andare a colpire ancora di più la classe media. Abbiamo già il taglio delle pensioni, previsto se vuoi fondi dall'Europa, previsto. Abbiamo già la riconferma di dover rispettare le misure del semestre europeo, quindi austerità, austerità e austerità. Quindi il quadro per il nostro Paese con questa gente è desolante. Fermo restando che oltretutto hanno utilizzato strumentalmente la situazione pandemica per sopprimere anche la libertà personale e quindi andare a colpire poi quella libertà di espressione che è essenziale colpire per evitare che ci possa essere nel mainstream un pensiero diverso. Sulla logica del discorso introduttivo di Draghi, quando si è presentato come Presidente del Consiglio, alle Camere dove ha dichiarato che l'obiettivo del suo governo era cedere sovranità nazionale. Quando si parla di cedere sovranità nazionale si dice sempre qualcosa di eversivo e significa in maniera molto chiara che il popolo italiano non deve più decidere ciò che dobbiamo e vogliamo fare a casa nostra. Cedere sovranità significa cedere democrazia, perché la sovranità, articolo 1 della Costituzione, è il diritto del popolo ovviamente in maniera democratica di esercitare quel potere d'imperio che determina tutto il nostro quotidiano. Importante però segnalare anche una cosa, cos'è che oggi ci determinerebbe la possibilità di uscire da questa crisi dal punto di vista economico? Non siamo in una situazione normale dove lo Stato può attendere che il privato faccia ripartire l'economia, in questa situazione è lo Stato che deve far ripartire il Paese. Spesa pubblica, massicci deficit, sovranità monetaria e ovviamente piani di lavoro garantito, cioè abbiamo milioni di cose da fare nel pubblico, ci manca personale ovunque, è lo Stato il primo datore di lavoro. Solo così si può fare una politica espansiva che fa ripartire il Paese. Keynes insegna.